Negli ultimi anni la domanda di informazione statistica ha aumentata in maniera vertiginosa. La statistica ormai viene prodotta da una gran varietà di fonti, ci arriva dappertutto. Però la disponibilità di statistica non implica necessariamente la capacità di selezionarla. È molto importante che tutti noi impariamo a selezionare la statistica, a selezionare la qualità, a valutarne l'attendibilità, la provenienza. Per questo è molto importante educare i giovani fin dallo Stato, dalla scuola, a capire le statistiche che leggono, che ricevono. Ma la statistica è anche molto importante per la politica economica. Politica economica significa prendere delle misure che migliorino il benessere dei cittadini di un paese. Per poterlo fare occorre conoscere la realtà, occorre conoscere come stanno le cose. La statistica quindi è fondamentale per il disegno della politica economica, ma è anche fondamentale per costruire il consenso sulle misure che poi vanno applicate, perché possano tutti i cittadini capire perché queste misure vengono adottate. E' per questo che questa giornata delle Nazioni Unite, che promuove la conoscenza ed innalza la qualità, il valore della statistica, per questo la giornata di oggi è così importante. Dati statistici ufficiali, credibili e affidabili, sono fondamentali per far bene il lavoro del giornalista, anche perché non dimentichiamoci che viviamo in un'era di sovrabbondanza, di eccesso di informazioni raramente verificate e verificabili. Viviamo in un'epoca di sondagite acuta, quindi di pseudo informazioni che vengono anche spesso confuse con dati ufficiali, quando sappiamo che i sondaggi in realtà rilevano più gli umori dell'opinione pubblica. Viviamo quindi in un'epoca dove ci sono più opinioni che informazioni certe. Ecco allora che il dato statistico ufficiale diventa estremamente importante per noi giornalisti per raccontare società sempre più complesse, realtà sempre più complicate e anche sempre più manipolate e manipolabili, perché questo è l'altro elemento estremamente inquietante, se volete, del nostro mestiere. Io per esempio nella mia trasmissione 8 e mezzo ho a che fare quasi tutte le sere con politici che fanno largo utilizzo di cifre, dati, numeri. Ecco per riuscire a fare bene il mio lavoro devo essere in grado di contrapporre ai loro dati che vengono venduti come verità, dei dati ufficiali verificati e credibili. Per questo che i dati dell'Istat sono per me e come per molti altri giornalisti assolutamente fondamentali. Io penso che per un personaggio come me e mi reputo da questo punto di vista affrontando un argomento del genere un cittadino, un uomo della strada, ecco credo che la sincerità, l'onestà, l'essere diretti per affrontare questo argomento sia la strada migliore. Mi spiego ancora meglio, se penso al mio mestiere e lo penso in rapporto alle statistiche tremo, nel senso che la mia attività si svolge dal punto di vista non solo televisivo, anche cinematografico e quant'altro attraverso una serie di statistiche che comprovano in qualche maniera se il risultato del lavoro che hai fatto è stato accettato o no e questo in qualche maniera determina anche il futuro stesso del tuo mestiere. Questo magari mi ha creato una fase di ansia nel rapporto con i numeri in senso più generale. Dall'altra parte la mia formazione di cittadino che mi porta a essere anche attento alle cose dello Stato, della società nella quale vivo, mi ha creato un rapporto diretto con la statistica intesa come il metro e il termometro anche che posso usare in maniera un pochettino più diretta per avere informazioni e formazione sulle cose che mi stanno avvenendo intorno anzi, delle quali sono anch'io in qualche maniera protagonista. Mi piace molto sottolineare l'idea di statistica come scienza dello Stato perché questo è un riaffermare il senso vero e reale della democrazia attraverso questo strumento se usato e deve essere usato come uno strumento proprio di estrema rappresentazione della democrazia cioè a dire i dati e le informazioni che vengono e che vengono trasmessi attraverso la statistica devono permetterci di avere sempre più chiaro il quadro della situazione e in particolare della società e dello Stato nel quale noi viviamo. Quindi se tutto quello che è informazione dettagliata e numerica intorno a problematiche, a prospettive perché poi bisogna pensare alla statistica come qualcosa che incide sia nell'analisi crudele come nella possibilità di creare futuro e possibilità. Rispetto a questo credo che l'attenzione del cittadino, di chi come me si sente un cittadino della strada è quella di pensare a un futuro, a un miglioramento, a un controllo continuo e costante di questa scienza che è al servizio appunto del cittadino perché possa tornare utile non solo sul piano dell'informazione ma sul piano della formazione per quanto riguarda il futuro di un paese che vuole ritenersi e che si ritiene democratico. Le statistiche sono cruciali, sono la bussola per orientarsi in un mondo che sta cambiando a una rapidità supersonica e se questo è vero per ogni cittadino che vuole essere informato e quindi essere un buon cittadino per un imprenditore è doppiamente vero perché l'imprenditore deve compiere scelte in condizioni di grande incertezza e questo è un momento di grandissima incertezza. Purtroppo le statistiche di cui abbiamo bisogno sono quelle che troveremmo in un famoso film Accadde domani, cioè in un certo senso servirebbero ancora di più i numeri del futuro su quale oggi possiamo fare al più delle congetture ben informate essendo saltati molti degli schemi e dei trend del passato anche recenti Per essere ben informati comunque servono ottime statistiche anche se queste descrivono il passato prossimo o al più il presente Noi oggi viviamo nell'era dell'informazione a getto continuo Le nuove tecnologie informatiche di comunicazione hanno aumentato esponenzialmente la quantità e la diffusione in tempo reale di dati e cifre e hanno accresciuto l'accesso alle notizie e al sapere Internet è una enciclopedia a portata di un click e a disposizione di chiunque Ma proprio quest'offerta straripante provoca in alcuni casi stordimento e confusione e si presta anche a letture variegate, spesso di formi se non contrastanti E qui proprio la statistica ufficiale, proprio perché non è di parte, è un bene comune gioca un ruolo assolutamente fondamentale I suoi dati sono la base su cui confrontarci su cui discutere in modo costruttivo per il futuro del Paese Per questo la statistica ufficiale deve essere credibile e tesa sempre a migliorare sia la qualità, sia la quantità, sia l'accessibilità delle informazioni I cambiamenti impongono sfide anche alla statistica che si deve attrezzare ed avere una maggiore velocità di risposta per star dietro ai mutamenti di contesto e a una disaggregazione più fine per cogliere ciò che realmente sta accadendo sotto la superficie delle grandi variabili Perciò penso che alla statistica vadano destinate grande attenzione e risorse adeguate Le imprese sono state sempre attente a collaborare e a fornire informazioni sobbarcandosi notevoli costi In epoca di budget sempre più stretti questi costi devono avere un più alto ritorno informativo A me sembra che una giornata come questa sia importante per portare anche a livello di un pubblico molto più ampio la statistica La statistica grazie anche all'Information Technology sta assumendo dimensioni, precisioni molto importanti Credo che quando si parla di statistica mai come in questi momenti sia necessario avere una statistica indipendente e questo è fondamentale, lo sottolineo fondamentale una statistica che sta progredendo moltissimo e che è di estrema utilità sia al mondo della politica al mondo dell'economia, al mondo dell'impresa vorrei dire a molti settori della nostra vita a condizione che poi sia una statistica che oltre a una statistica indipendente sia anche una statistica oserei dire perfetta anche se non lo è per natura ma che poi abbia in chi la segue la capacità di essere interpretata perché la statistica non è una scienza esatta ma va interpretata Credo che siano elementi importanti ed è soprattutto fondamentale come dicevo all'inizio che questa scienza assuma oggi un ruolo non solo mondiale ma anche vada al di fuori di quella che è la ristretta cerca degli addetti ai lavori Oggi abbiamo celebrato la giornata mondiale della statistica l'abbiamo celebrata non solo con gli esperti ma anche con i ragazzi i bambini che hanno lavorato nel corso degli ultimi due anni su dei progetti per la cultura statistica la statistica infatti oggi serve a tutti non può servire soltanto a chi ha responsabilità di governo serve ai cittadini non solo per controllare quello che fanno i responsabili politici ma anche per prendere decisioni per migliorare il proprio benessere ecco perché il tema della cosiddetta cultura statistica è un tema che riguarda tutti la giornata mondiale della statistica indetta dall'ONU serve proprio a farci capire l'importanza di questa disciplina e l'importanza della statistica ufficiale in particolare cioè di quelle istituzioni come l'Istat ma non solo che pubblicano dati che servono a tutto il paese per capire se la situazione migliora, peggiora se lo sviluppo sociale, economico, ambientale procede nella giusta direzione ecco perché la statistica è uno strumento di democrazia è uno strumento per migliorare il benessere di tutti ed è con questo spirito di servizio pubblico che il personale dell'Istat e del sistema statistico nazionale opera quotidianamente serve però la collaborazione di tutti serve la collaborazione dei media serve la collaborazione degli utilizzatori per far sì che queste statistiche diventino conoscenza condivisa anche i cittadini hanno il compito di guardare meglio queste statistiche distinguerle dai sondaggi o dalle previsioni perché sono molto più difficili da fare naturalmente più incerte e quindi supportare, sostenere le attività dell'Istat e altre istituzioni quando collaborano ad esempio ai questionari quando collaborano alle indagini statistiche abbiamo bisogno, in altre parole, della collaborazione di tutti per aiutare tutti a conoscere meglio questo nostro paese per aiutare tutti a conoscere il nostro paese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti